...fuori dai loro obblighi istituzionali, venivano in qualche modo a essere messi a confronto. Convino la Fondazione Italiana, ma io credo che sarà meglio oggi concentrare... E quindi l'idea è di riunire delle persone che sanno, per esperienza politica, cioè ex dirigenti, ex presidenti di Repubbliche, ex capi di governo, ex ministri, che hanno già percorso e sono usciti dalla politica, ma che hanno tutto il know-how per poter discutere. Questa è una cosa. E l'altra cosa, i politici attuali, coloro che devono prendere le decisioni insieme agli scienziati che devono dare loro il know-how necessario. Questo è l'obiettivo. E l'Europa e la politica mondiale non hanno avuto l'opportunità di rinnovare, di nuovi strumenti del mondo globale dopo la città della guerra. L'Europa e l'internazionale politica non hanno avuto il test di rinnovare, delle nuove condizioni del mondo globale nella era post-Cold War. Ascoltami, per favore, come me tu sei un Homo sapiens, un uomo pensante. La vita, un miracolo dell'universo, è comparsa circa 4 miliardi di anni fa, in noi esseri umani, soltanto 200 mila anni fa. Eppure siamo riusciti a sconvolgere l'equilibrio che è indispensabile alla vita stessa.